musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono il ghisus e non ho voce dopo il primo giorno di grass quindi incredibile vero allora oggi riprendiamo con axel world vs world at online e siamo nel livello fine del mondo cioè dopo aver attraversato quello strano portale ehm beh scena mi mando musica 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 Non è difficile di parlare di cosa che non sapevano. Ma prima cosa che ci sono, a cercare di fare un po' di loro, e cercare un po' di loro. ... ... Loh-chan, come si è stato? Non si è buono? Loh-chan... ... ... ... ... ... C'è quello di me? Si, è così. Non si parla di Black Lotus e Rotta-chan, certo? C'è questo? C'è una differenza短a. Eh? C'è questo? 教ate,教ate! Per me, che conoscevano, è Satchin, oltre a Satchin. Ahaha, molto bello! Quindi, mi chiamo Satchin. chiamo. Satchin, non mi piace, non mi piace. E' un'occhio, Non mi piace, non mi piace. Non mi piace. Satchin, non mi piace. Satchin, non mi piace. 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 Satchin, non mi piace. Satchin, non mi piace. Non mi piace. Satchin, non mi piace. Satchin, non mi piace. Satchin, Satchin, non mi piace. Satchin, Satchin, non mi piace. Satchin, Sit. Satchin, 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 What is La stessa di essere non è una cosa che questa persona non è stata di più adattare il mondo di più di più a 1000 anni. N... Nani? Se... 1000 anni? Miai, Strea, cosa ti dicono? Quando ti partiamo in questo momento... Non c'è tempo, non c'è tempo. Le collegamento di queste mille anni fa è molto semplice, e non è vero che non è vero. Non è vero. Ma anche se è detto... Questo è quello che si tratta di Strea per il mondo del mondo? Non è vero, non è vero. Non mi sembrava così, ma... Non mi sembra di avere un valore di questa volta, ma non mi sembra di credere. Non mi sembra di essere il futuro del mondo del mondo? C'è qualcosa di fatto? C'è un problema che ti senti l'occasione in precedenza. C'è un problema che mi ha accèsato. È un problema che i personavabbel, che sia un problema che i problemi dell'A.L.O. di questo caso. ...C'è un problema. Ma... Ma che... C'è un problema? C'è un problema? C'è un problema. Dio 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 D è una cosa che si tratta di poterciare. Ah! L'Otus è stato venuto dal futuro? Noi... 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 ... ... Noi... ... Una cosa che non è avancato. Non è passato. ... ... ... Non è una nascita per un uomo di 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 un uomo. ... Sì, come si è stato fatto? Rodas! Non mi preoccupi. Sì, non mi preoccupi. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Quell'entità che ci chiamano dal futuro è una cosa molto semplice e così ha fatto Persona Baba. Grazie a tutti! 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 Grazie. Grazie per la visione 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 Ok ragazzi Anche per questo episodio è tutto Abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere Argo e se non lo ricordate non fa niente perché nell'anime appare appare Grazie per la visione Spero che apprezzate lo sforzo Come al solito vi chiedo vi chiedo vi chiedo lasciate un commento Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo in un prossimo video Quindi bello ragazzi